Un investimento importante che sta dentro un piano, e ci siamo dati di tre anni, per cercare di intervenire a una generale modernizzazione del sistema edilizio scolastico. È stato presentato questa mattina nella sala consigliare della Villa Comunale di Collegno il progetto interamente finanziato dalla città metropolitana di Torino per la ristrutturazione a uso scolastico della Villa 6 nel Parco della Chiesa. L'intervento completa le iniziative realizzate in precedenza dalla provincia di Torino, oggi città metropolitana, ma sempre in stretta collaborazione con i comuni di Collegno per il potenziamento del polo scolastico liceale, prima la ristrutturazione della Villa 4, avvenuta nel 2003, poi la costruzione della nuova palestra della sede scolastica, i cui lavori sono stati conclusi di recente. La Villa 6, edificio di notevole pregio architettonico, si compone di tre piani fuoriterra e si presenta oggi in pessimo stato di conservazione, ma la sua struttura portante è sostanzialmente integra. Il progetto di ristrutturazione prevede la costruzione di nuove tramezzature interne e il rifacimento di tutti i pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e serramenti esterni e interni. Il progetto è adeguato alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da consentire l'uso da parte di persone disabili di tutti gli spazi. Un passo molto importante sia per il dimensionamento scolastico, quindi per fornire ai nostri studenti strutture all'avanguardia, moderne, in uno straordinario ambiente, questo è il grande parco dell'ospedale psichiatrico di Gallegno, della Certosa Reale, che quindi recuperare queste strutture è veramente, oltre che una grande opportunità di formazione, anche una straordinaria occasione di recupero di un bene architettonico di primissimo livello. Sì, una grande opportunità per riqualificare l'edilizia scolastica della zona ovest e di Collegno Grugliasco in particolare. Si completa la ristrutturazione di Villa 6, si interviene sul patrimonio del barocchio che potrà diventare un grande campus destinato alle materie scientifiche che completa anche il processo di trasformazione di Grugliasco in Grugliasco città universitaria e dei saperi scientifici. Quindi una grande bella notizia che trasformerà questo territorio in maniera importante aprendolo allo sviluppo economico. È un intervento cospicuo, 3 milioni e mezzo soltanto l'intervento di ristrutturazione, globalmente tutto questo intervento occupa quasi 8 milioni, rientra in un piano triennale che la città metropolitana si è dato di adeguamento degli edifici scolastici perché buona parte degli edifici scolastici in cui i nostri ragazzi vanno a scuola sono stati edificati prima degli anni 70. È evidente che oggi abbiamo bisogno di scuole nuove, moderne, più adatte ai tempi di oggi, in sintonia con il modo di vivere, di studiare, di insegnare di oggi e quindi abbiamo avviato questo percorso che ha in questo intervento un primo significativo importante intervento e che si estenderà anche alle altre scuole.